La richiesta di pubblicazione ricevuta in data 23 maggio 2011 è stata affissa alla porta di questa casa comunale per 8 giorni comprendenti, le giornate dal 24 maggio 2011 al 31 maggio 2011, senza che sia stata notificata opposizione al pubblico. Ai sensi dell'articolo 67 del TPR 396 del 2000, gli sposi dichiarano di voler contrarre matrimonio nel comune di casa. La presente delegazione ha validità sino al 30 novembre 2011. Si rilascia a richiesta dei nubenti in carta libera a norma del TPR 2610 numero 642. L'uffiziale dello Stato civile, Zoboli Maria Grazia. Il presente atto viene letto agli intervenuti, i quali tutti insieme lo sottoscrivono. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.